Allora oggi proverei con questa bestia Wimius 4K nel fiume con questa barca Allora oggi proverei con questa barca Allora oggi proverei con questa barca Io l'ho calato la mia barchetta da un ponte Allora oggi proverei con questa barca 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 Qui l'ho calato da un altro ponte ancora più in alto Allora oggi proverei con questa barca Qui l'ho scaraventato la barchetta giù per una cascata Allora oggi proverei con questa barca Adesso faremo il testo definitivo dentro la barchetta giù per una barca Allora oggi proveremo la barchetta giù per una barca In definitiva la Wimius come qualità video è in linea con le concorrenti di fascia bassa Arriva con un botto di fascia bassa Arriva con un botto di accessori inclusi e va molto bene quindi per riprese subacquee Allora oggi proveremo la barchetta giù per una barca Allora oggi proveremo la barchetta giù per una barca